Anche questa settimana è ancora alto il tasso di occupazione delle terapie intensive che si trova al di sopra della soglia critica a livello nazionale, anche se si nota un iniziale lieve decremento dei ricoveri ospedalieri e dei ricoveri in terapia intensiva. L'incidenza è ancora elevata, intorno a 570 casi per 100.000 abitanti. Grazie all'effetto delle misure di contenimento scende di poco al di sotto di uno l'RT. Per questi motivi è necessario continuare a tenere comportamenti prudenti, evitare le aggregazioni, usare distanziamento sociale, lavaggio frequente delle mani e tenere sempre la mascherina anche in previsione delle prossime feste.